Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2016, esattamente cinque anni fa, sulla collinetta di San Marco, a Paternò, l'Associazione Sicilia Antica e gli studenti dell'Iterusso, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, diedero il via ad uno scavo archeologico con la coordinazione e supervisione della soprintendenza ai beni culturali di Catania. Da quello scavo emersero importanti reperti, in particolare una laminetta alta 2,2 cm, larga 10,5 cm, databile tra il III e il II secolo a.C., con impresse alcune piccolissime incisioni dalla difficile interpretazione, sia perché molte lettere non erano leggibili, sia per i possibili errori o sovrapposizioni di lettere, trattandosi proprio di una miniatura. Lo studio è stato affidato ad Antonietta Brugnone dell'Università di Palermo, che ipotizza come nell'iscrizione si faccia riferimento alla promessa di un'offerta di opere e sacrifici a due o più divinità. La stessa studiosa ha evidenziato che sia solo all'inizio di questo studio che deve essere ulteriormente approfondito e valutato. Forse ulteriori scavi servono nell'area per poter trovare magari ulteriori elementi che possano permettere di capire che Sito ospitava le salinelle negli ultimi secoli antecedenti la nascita di Cristo. Abbiamo presentato il volume con l'Istituto Tecnico Economico Russo relativo a una campagna di scavo realizzata nella zona di San Marco in prossimità a delle salinelle, in un terreno che ci è stato dato e comodato d'uso gratuito dalla famiglia d'amore negli anni, intorno al 2017, e tutto si inquadrava all'interno di un progetto molto più ampio coordinato da Sicilia Antica regionale con la supervisione, con la responsabilità di Giuseppe Barbagiovanni e che ha visto coinvolto ovviamente la sede di Sicilia Antica a Paternò a quel tempo guidata dal professore Chisari. Un impegno molto importante che ha tracciato un po' le linee della ricerca archeologica e del coinvolgimento attivo delle studentesche nella ricerca archeologica appunto a Paternò. Investimento nel settore culturale, di questo c'è bisogno, lo si ripete da anni, per tracciare anche una nuova strada economica per Paternò che possa fondare nel turismo un settore che merita di svilupparsi. Investimenti che permettano nuovi scavi in questa porzione di territorio tutta da scoprire. Intanto, proprio per l'area di San Marco, arriva un'importante novità. La famiglia d'amore, proprietaria di un'area dove è stato effettuato lo scavo, ha deciso di tornare il terreno proprio a Sicilia Antica per futuri eventuali scavi. Questa qui è stata la sorpresa che la famiglia d'amore ci ha riservato durante la presentazione del libro, è venuta venerdì scorso. Tutta la famiglia all'unisono aveva scelto di fare donazione del terreno che già c'era un lato incomodato d'uso durante gli scavi, alla nostra associazione. Ovviamente la cosa ci riempie d'orgoglio per tanti motivi e ci dà fiducia perché il mecenotismo non è cessato, continua fortunatamente.